Capitano, sono sceso a terra, ho trovato dei casini mostruosi, la polizia e le calcagne, o lasso scutre navariate, lasso scutre navariate, lasso scutre navariate, Astronave madre, astronave madre, il comandante Fass sta rientrando con guasto alla moto stellare, ripeto, astronave madre, astronave madre, il comandante Fass sta rientrando, aprite i portelloni, Attenzione, astronave, astronave madre, attenzione, attenzione, pericolo, pericolo, pericolo imminente. Attenzione, attenzione, il comandante Ugo Spaz sta rientrando con gravi danni. Attenzione, attenzione, attivare tutti i sistemi di sicurezza, attenzione, attivare tutti i sistemi di sicurezza. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS